Il provvedimento sarà valido per sei mesi e interesserà tutto il Paese. Il Governo, ieri nel Consiglio dei Ministri, ha deliberato lo stato di emergenza per l'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Proposta dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, la misura è sostenuta da un primo finanziamento di 5 milioni di euro. Sarà nominato un commissario per i migranti, con molta probabilità il prefetto Mario Valenti. Nasceranno nuovi centri e saranno potenziate le procedure per gli impatri e gli aiuti. Cambiano anche le norme, diventando più stringenti sulla protezione speciale. Ci saranno regole più rigide per farvi accedere solo che ne ha effettivamente diritto e saranno dimezzati i tempi di verifica per il rinnovo. Il Ministro Musumeci ha sottolineato la gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300% rispetto al 2022. Si è chiaro, ha detto, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea. Stessa posizione per il Governatore Renato Schifani, che aveva già richiesto il provvedimento. La Regione, ha detto, sta facendo la propria parte, anche attraverso il Dipartimento della Protezione Civile e Regionale, ma necessita di tutto l'aiuto possibile, compreso al più presto un intervento concreto e organico da parte dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'anno gli arrivi sono stati 31.200.